Estate 2023 la Toscana dei Parchi al via la campagna social che fino al 10 settembre presenterà le foto dei parchi e delle riserve toscane sui profili social dell'Assemblea Legislativa. Un'iniziativa volta a promuovere nel cuore dell'estate i parchi naturali della Toscana ricchi di bellezza, biodiversità e storia. La campagna è stata presentata a Palazzo del Pegaso introdotta dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo. L'obiettivo è far conoscere quanta storia, quanta bellezza, quale biodiversità ci sia nei nostri parchi. La Toscana è terra di arte, terra di storia e terra di cultura. È una terra che è in grado di far conoscere la propria bellezza attraverso le coste stupende, attraverso le città d'arte, attraverso i borghi più piccoli, ma anche una storia di parchi naturali molto molto importanti. Questi sono luoghi del benessere, sono luoghi ricercati ormai in tutto il mondo. Allora noi abbiamo deciso quest'anno come Assemblea Legislativa, lo scorso anno l'avevamo fatto per i piccoli borghi, quest'anno abbiamo deciso di sostenere, far conoscere quanta bellezza è il valore dei nostri parchi naturali. Voglio ringraziare di cuore per il sostegno tutti i presidenti dei nostri parchi, sia quelli nazionali che quelli regionali, per il lavoro importante che portano avanti. Questa è una stagione da vivere all'insegna della natura e della biodiversità, quindi a tutti i turisti che vengono in Toscana venite a visitarli, a conoscerli, venite a vedere e toccare con mano quanta bellezza c'è nei nostri parchi. Sono intervenuti alla presentazione i presidenti di tre dei più importanti parchi della Toscana, Luca Santini, presidente della Federparchi e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma e Lorenzo Bani, presidente del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Questa iniziativa è sicuramente importante anche perché la Toscana svolge un ruolo importante all'interno del sistema delle aree protette italiane. Ci sono tre parchi nazionali, l'Arcipelago Toscano, le Foreste Casentinesi e il Tosco Emiliano. Poi ci sono dei parchi regionali importanti come la Maremma, per esempio, e come anche San Rossore che è stata anche tenuta presidenziale. Abbiamo un parco, un geoparco come quello delle colline metallifere, quindi abbiamo tutti gli ambienti da quelli montani a quelli costieri, litorani e quindi degli ecosistemi davvero importanti che fanno della Toscana una punta di diamante del sistema aree protette italiano. Bellezze naturali e anche grandi potenzialità nello sviluppo turistico della nostra regione perché i parchi sono capaci di diversificare l'offerta di arte, di paesaggio tipicamente toscana, incrementandola e mettendo insieme anche un'offerta di natura, un'offerta ecologica. È un tipo di turismo estremamente attuale, non solo perché avvicina e sensibilizza le persone a temi importanti come quello della transizione ecologica o dei cambiamenti climatici, che sono aspetti che vengono tipicamente affrontati all'interno dei parchi, ma sono molto importanti perché rappresentano anche un'offerta turistica sociale, perché i parchi sono un luogo abbastanza economico per vivere il mare, per vivere la montagna e quindi in un momento di difficoltà come questo i parchi svolgono un ruolo e le aree pubbliche svolgono un ruolo essenziale nell'offerta turistica. Ma in Sero Sole si vive bene anche perché da quando sono arrivato io ho cercato di aprire il più possibile, perché i parchi non sono degli enclave dove devono essere solo guardati, adorati, devono essere vissuti perché se si vivono e si condividono si rispettano. Per cui noi abbiamo fatto questa rassegna a Vivi Parco, abbiamo portato circa 2.500 persone a fare gli eventi all'interno delle varie location nel parco e stiamo aprendo dei nuovi sentieri perché questo secondo me è il futuro. Approvato dal Consiglio regionale con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle il Sistema Neve, piani straordinarie e misure specifiche in merito alle prospettive dei comprensori sciistici della Toscana in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici in atto. La proposta di risoluzione è nata su iniziativa della Commissione Aeree Interne presieduta da Marco Nicolai che l'aveva approvata all'unanimità. La stagione invernale tende sempre più a ridursi e quindi ovviamente si pone un tema di prospettiva di medio e lungo termine. Il turismo invernale è straordinariamente importante in termini di reddito ma se questo è lo scenario dal punto di vista climatico non possiamo permetterci di creare situazioni di grave difficoltà in prospettiva per questi territori. Occorre accompagnare azioni di adattamento di questi territori a un mutato scenario dal punto di vista climatico diversificando l'offerta turistica potenziando la parte estiva, la parte sportiva e tutta una serie di altre linee che devono nascere da un confronto con i territori. È necessario in Toscana armonizzare l'attività delle stazioni sciistiche, serve uniformare gli impianti di risalita, serve fare una legge quadro generale della montagna per definire le aree sciabili e soprattutto per garantire il trasporto pubblico degli impianti di risalita a tutti i cittadini toscani e non solo ai turisti e serve soprattutto favorire una fruibilità nei mesi ovviamente invernali con impianti di innevazione a carattere artificiale, di innevamento a livello artificiale ma soprattutto con delle risorse che sostengano un settore che altrimenti rischi di andare in difficoltà anche a seguito del cambiamento climatico che differenzi la stagione turistica della montagna e faccia della montagna toscana un unico grande sistema della neve. Un po' come deve avvenire sulle terme così con la montagna la Toscana deve uniformare e standardizzare a mio avviso le tariffe, l'organizzazione, la qualità dei servizi e fare un unico grande livello di promozione del sistema della montagna. Io penso che sia necessario investire sicuramente su forme alternative da andare in montagna lo scialpinismo, le ciaspolate, il turismo lento estivo ma sia necessario anche tutelare il comparto neve classico, l'impianti di risalita e per far questo si deve investire soprattutto nei bacini idrici perché alla betone, alla miata non nevica meno che a Cortina o in un'altra località rinomata delle Dolomiti, semplicemente c'è un sistema di innevamento più efficace e più veloce quindi in una finestra climatica di 24, 36, 48 ore riescono a innevare tutto un intero comprensorio. Va bene destagionalizzare però non mortifichiamo chi lo fa, investiamo su forme alternative da andare in montagna ma tuteliamo i nostri impianti sciistici e di risalita soprattutto investendo sui bacini artificiali per la neve programmata. Ora l'estate diciamo che la gente sta andando molto di più in montagna rispetto agli anni pre-Covid, questo è vero, però diciamo che in queste località non può bastare solo il turismo estivo anche perché tante attività sono collegate al turismo invernale. Quindi con questa proposta di risoluzione si chiede che la Giunta continui nel tempo a dare aiuti a queste comunità dove si scia e inoltre anche si chiede al Governo che porti avanti un decreto sugli appennini, sembra che ci siano tanti soldi in ballo, non si sa bene come verranno destinati sia tutti gli appennini o solo alle località sciistiche. Diciamo che noi siamo favorevoli a questa proposta perché in un primo tempo sembrava rivolta molto agli impianti sciistici, io però ho fatto presente che i problemi sono anche di bar, ristoranti, attività commerciali, attività di noleggio, cioè tutte quelle attività che ci sono nei comuni dove si scia e quindi un'attenzione occorre anche a questi che finora hanno resistito e devono continuare a resistere perché non si possono far spopolare questi territori. Del sistema neve e soprattutto di come cercare di rilanciarlo sentiamo parlare ormai almeno la nostra presenza nel Consiglio regionale, cioè dal 2015. E prima di pensare a nuovi risorsi, a nuovi stanziamenti vorrei fare una domanda che finora è stata in evasa da questa giunta. Quanto denaro è stato speso negli ultimi dieci anni per il rilancio del sistema neve, quella neve che vediamo bene oggi con i cambiamenti climatici essere sempre più assente non solo sull'Appennino ma anche sulle Alpi? Sono stati soldi ben spesi oppure quella destagionalizzazione che più volte abbiamo chiesto doveva essere attuata in modo migliore come per esempio in Trentino e in altre regioni hanno fatto perché altrimenti ci ritroveremo per l'ennesima volta a dare dei fondi a soggetti pubblici, privati per rifar ripartire un tipo di turismo che è palesemente in questo momento non corrispondente a quella che è la situazione climatica attuale e questo comporta dispendio di denaro pubblico che è il problema principale. Quindi la domanda da farci è sono stati soldi ben spesi? Si possono spendere meglio? Questa è la domanda che nessuno si fa. Approvata maggioranza la modifica della normativa vigente in materia di cerca raccolta e contivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano. Voto contrario di Italia Viva e astenzione di Lega e Fratelli d'Italia. La modifica è stata illustrata in aula dalla presidente della commissione sviluppo economico e rurale Ilaria Bugetti. La legge va esattamente nella direzione di tutelare quello che è un patrimonio della regione toscana che è una delle maggiori regioni a livello italiano per la coltivazione e la cerca del tartufo con circa 4.000 tesserini ogni anno che si dividono fra zone coltivate e zone di libera cerca. Quindi è quello che è stato l'interesse oggetto di questa modifica di legge per le mutate condizioni della normativa nazionale ovviamente è stato quello di trovare un punto d'equilibrio che fosse il più possibile rispettoso sia di coloro che coltivano e che quindi hanno modalità di coltivazione tutto l'anno sia per le persone che hanno la volontà di andare a fare una libera ricerca del tartufo nel territorio regionale con un'attenta anche mappatura che dovrà essere redatta ancora più precisamente sulle zone che siano effettivamente realmente produttive di tartufo cercando di limitare e di dare una definizione precisa agli orari per la cerca del tartufo alle zone di addestramento cani e quindi quelle che sono le regole sia per la regione ma anche per i comuni per disciplinare quella che è una materia sicuramente molto complessa e molto importante e una grande fonte non solo di economia ma anche di hobby per questa regione che ne fa di un prodotto di grande valorizzazione e di richiamo in tutta la nostra regione. La nuova legge aggiorna una normativa che risale a circa 30 anni fa c'era bisogno di aggiornarla, adeguarla e ammodernarla anche a quanto registriamo ad esempio sotto il profilo dei mutamenti climatici. Il nuovo calendario infatti sposta in avanti i termini per la raccolta del tartufo. Il nostro obiettivo è stato quello di mantenere, di raggiungere un equilibrio e un punto di condivisione fra i vari interessi e le varie tradizioni che nei territori agiscono. Fra coloro che giustamente pagando un tesserino alla regione toscana e sono migliaia hanno diritto ad avere un territorio dove esercitare la propria attività e la propria passione con il lavoro prezioso che fanno le associazioni dei tartufai sul versante della manutenzione e della preservazione di un territorio così come legittimamente operano anche le imprese che gestiscono le tartufaie controllate. Ho votato convintamente contro perché a mio avviso il tartufo è un prodotto straordinario del territorio toscano, è una peculiarità unica del nostro territorio, è una sorta di oro e lasciare libera la raccolta e la fruzione senza una peculiarità, senza la coltivazione, senza il fatto che l'impresa e il lavoro possano trarne un vantaggio ovviamente collettivo ma ovviamente a favore del lavoro, dell'impresa, delle opportunità che tanti giovani stanno facendo e vivendo nel territorio toscano a mio avviso è un grave errore. Il Partito Democratico si è assunto una responsabilità pesantissima, rischia di distruggere la storia e la tradizione non soltanto della raccolta ma anche della cultura, del tartufo, del lavoro e della fatica dell'uomo. Torna a Collodi senza fili Pinocchio Street Festival, ottava edizione. È stata presentata in Consiglio regionale la manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 agosto. Tanti gli spettacoli di teatro, musica e arte circense. Alla presentazione il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo ha sottolineato come sia un'iniziativa bella e importante perché permette di raccontare le tante bellezze che ci sono a Collodi. Un'iniziativa bella, un'iniziativa importante perché permette di raccontare le tante bellezze che ci sono a Collodi e questo è uno di quegli eventi che viene riconosciuto ben oltre la nostra regione. Il nome di Pinocchio viene portato in tutto il mondo e questi spettacoli urbani riescono a far crescere anche a migliorare gli eventi e le iniziative che ci sono sul territorio. Quindi grazie a tutti per questa iniziativa e che sia dal 25 al 27 agosto un momento bello e importante non solo per Collodi, non solo per Pesce ma per l'intera Toscana. Alla presentazione sono intervenuti il Consigliere regionale Marco Nicolai, il Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi Pierfrancesco Bernacchi, il Sindaco di Pesce Riccardo Franchi, il Direttore Artistico Alessio Michelotti e il Direttore Organizzativo Francesco Baglioni. L'invito che faccio a tutti è di visitare Collodi nei giorni del Pinocchio Street Festival perché soprattutto il Borgo di Collodi Castello, grazie ai tantissimi spettacoli che vengono lì organizzati fornisce uno spettacolo e uno scenario veramente straordinario e bello di un borgo medievale che incontra l'arte e la cultura in mezzo alla gente e in mezzo alle case. Ci fa piacere nell'ambito di una serie di programmi e di progetti che abbiamo scelto per il 140esimo mantenere anche la manifestazione Pinocchio senza fili, è una manifestazione che curiamo da molto tempo anche perché ha quel valore internazionale che da tempo curiamo. La Fondazione oggi ha operative e attivi nel mondo, oltre 140 manifestazioni e quindi anche questo bene si colloca in quella linea. Per me da poche settimane neosindaco del Comune di Pesce è un orgoglio poter ospitare, poter patrocinare e poter contribuire anche fattivamente alla realizzazione di questo evento. Un evento che siamo sicuri porterà tantissime, migliaia e migliaia di persone non solo a godersi lo spettacolo dell'organizzazione a cui vanno veramente tutti, al Presidente, a tutto lo staff per la sua splendida organizzazione, ma soprattutto finalmente poter portare tantissime persone a visitare Collodi. Noi abbracciamo un po' tutte le discipline dello spettacolo popolare, quindi dal teatro alla musica, alla danza, al circo, senz'altro anche una presenza importante del circo contemporaneo. Senza fili in otto anni ha creato un percorso molto importante in Toscana per la promozione di queste arti con una specificità che è quella di un incontro molto diretto con il suo pubblico. Diciamo noi puntiamo a un'estrema qualità delle proposte per cui quello che si vede a Collodi è qualcosa che spesso non si riesce a trovare poi da altre parti. Quest'anno Senza fili torna nuovamente a promuovere la musica, quest'anno più che mai perché sarà l'ultimo evento della giornata, delle tre giornate. Inizieremo il venerdì appunto con gli Asgarovski Brades, per proseguire poi il sabato con l'ensemble Terzo Tempo che farà un omaggio, una produzione apposta per il Festival Sud di Andrè, per concludere infine la domenica sera con la festa che coinvolgerà tutte le persone con Barabim Boom Band che porta il suo spettacolo Banda Molleggiata su palco. È una cosa inedita che abbiamo fatto ad hoc per il Festival. Grazie. Grazie.